Nelle puntate precedenti Oracle, hanno usato un ibrido di Venom vegetale per creare la variante del Titan La soluzione sta nella pianta e c'è solo una persona ad Arkham che può darmi una mano Cosa ti fa pensare che Ivy sia disposta ad aiutarti? Se le sue piante sono in pericolo mi starà ad ascoltare Ivy, la dottoressa Yang ha mutato queste piante per produrre il Venom Sì, e ho saputo da fonti ufficiose che quella strega ha pagato per questo Mi serve il tuo aiuto per trovare l'antidoto Perché dovrei? Che Joker si diverta Sarà un piacere vedere che ti contorgi Ogni pianta di questa isola riceverà lo stesso trattamento se non collabori C'è una pianta che cresce nelle viscere dell'isola di Arkham È in grado di annullare gli effetti di questa variante di Titan Dove si trova? Oh, nella tana di Killer Croc Pensavi che sarebbe stato più facile, vero? Torna nella tua cella, altrimenti dovrai vedertela con me Ti aspetterò Torna nella tua cella, altrimenti dovrai vedertela con me Il titan deve avere un effetto diverso su Ivy Le sue piante stanno crescendo Fra poco saranno fuori controllo Sembra che le piante subiscano un'altra mutazione Quel baccello contiene delle spore simili a quelle che ha usato Ivy per attaccare Gotham l'anno scorso Sono mortali No, 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 no! No, 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 no! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti